La Roland School con sedia ad Agropoli, Giungano e Eboli lo scorso sabato 19 settembre ha riconfermato i titoli ridati al campionato del mondo di Olbi a Sardegna 2015 con un oro nello showdance grazie a Noemi Astone, Giovanni Astone, Carla Graziuso, Gennaro Abruzzese, Emanuela Zerino, Anna Maria Annunziata, Noemi D'Amato. Medaglia di bronzo per Gennaro Abruzzese specialità showdance. Giovanni Astone si è classificato al quarto posto nella specialità showdance mentre domenica 20 il quinto posto su 55 coppie partecipanti va a Anna Maria Annunziata in Noemi D'Amato. Lo staff della Roland School si complimenta con la maestra Laura Manna per il grande lavoro svolto e l'entusiasmo che trasmette costantemente ai ragazzi.